Benvenuti nella Galassia Rattics. Oggi vi presento una moto straordinaria, Yamaha Tracer 7. Questa moto, immatricolata ad aprile 2024, ha percorso solo 127 km certificati ed è in condizioni impeccabili. Equipaggiata con un motore bicilindrico da 689cc, offre un'eccellente combinazione di potenza e maneggevolezza, ideale per ogni tipo di viaggio. Se state cercando una moto praticamente nuova, la Yamaha Tracer 7 è la scelta perfetta. Non lasciatevi sfuggire l'opportunità di possedere questa fantastica moto. Per ulteriori dettagli e per